Sempre dalla Transalpina, sempre in questi cinque anni, priorità e soprattutto con che squadra? La priorità, il fatto che siamo qui è l'Europa, se l'Italia perde il treno dell'Europa andiamo in miseria, quindi dobbiamo tenere duro su questa cosa e visto che questo è l'Europa noi qui vogliamo esserci. La squadra è una squadra competente, ho fatto una scelta di persone valide, persone che sanno di cosa stanno parlando, ho dovuto fare delle scelte, certe volte anche dolorose, con alcuni amici e amiche che non sono più con me, però dovevo pormi il problema di come veramente riuscire già da domani a poter cominciare a costruire il mondo nuovo.